Ciao a tutti ragazzi sono iPhone Amatore e benvenuti a tutti quanti in questo nuovo video Ragazzi, molte persone logicamente non credono ancora adesso e non crederanno a quello che sto per farvi vedere Ma vabbè, ragazzi non so se avete visto il video in cui parlo di coin generation, cioè digital generation, coin generation Coin, vabbè digital generation, potete andare a trovare il link in descrizione Ed è un sito che ci permette di guadagnare attraverso l'apertura di un programmino che dovrebbe stare, ecco, quello che è comparso qui Sì, ora ve lo faccio vedere perché non posso aprirlo Comunque andate in descrizione per vedere il video integrale con tutte le spiegazioni di come ci si scrive E dei vari problemi che potrebbero, che vi si potrebbero proporre davanti una volta iscritti Ma adesso non sto a parlare più di tanto dell'iscrizione e tutto quanto Sto per farvi vedere una prova del pagamento da digital generation Io in neanche 25 giorni, sì, ho guadagnato all'incirca ora 19 dollari più un dollaro che già sta sull'account Paiza Più o meno stiamo sui 22 dollari perché adesso il mio programma sta su più o meno 20 dollari Ok, aggiunti, cioè non aggiunti, però sommati, è sommato il resto, 20, meno 19 fa un dollaro, mezzo dollaro, quello lì che è Faccio questo video appunto per farvi vedere la, intanto la velocità nei pagamenti E la cosa più importante è il pagamento in sé per sé Io ora andando in personal payment, posso andare a fare la richiesta di un nuovo pagamento E come metodo di pagamento posso andare a chiederlo attraverso Paiza Perché io ho l'account Paiza e quindi posso andare a richiedere ben massimo 19 dollari 65 Fatti, ripeto, neanche 25 giorni, quindi così, cioè come niente E basta cliccare qui e io riceverò istantaneamente 19 dollari punto 65 Per noi ragazzi 19 dollari 65 sono moltissimi E quindi vi consiglio veramente di andare a vedere il link in descrizione per andare a vedere il video integrale Con tutte le descrizioni, tutte le tappe da fare per iscriversi su questo sito E guadagnare abbastanza perché, ripeto, 19 dollari 65 Per noi per esempio ragazzi che giochiamo a Minecraft o giochiamo a qualche gioco online O che praticamente si comprano online i giochi E' un buon acquisto, cioè un buon traguardo Ma vabbè, non sto a parlare più di tanto e vado a procedere con il pagamento Che il pagamento viene fatto istantaneamente Vedete che sono stati tolti ben 19 dollari 65 dal mio conto Perché logicamente si sono trasferiti in neanche 3 secondi sul mio account di Paiza Potete vedere che a sinistra gli euro sono 0 perché non ho gli euro Ma ho i dollari Ho ben 20 dollari punto 77 Cosa bellissima ragazzi perché 20 dollari punto 77 sono tantissimi Ripeto, sono tantissimi E con questo video testimonio Faccio da testimone, mi sa che è meglio dirlo così Che questo sito è veramente, veramente affidabile Più di questo ragazzi non so che dirvi Oltre ad andare a vedere il mio scorso video Lo so, mi sto un po' rompendo Però è una buona opportunità di guadagno Proprio buona 20 dollari Neanche 25 giorni Neanche 23, 22 Quanti giorni mi mancano a me? Calcolate che sono 30 giorni 30 giorni Eh ancora mi mancano 10 giorni Quindi in 20 giorni sono riuscito a fare più di 21 dollari ragazzi In 20 giorni È una cosa bellissima Secondo me bellissima Niente ragazzi Il video finisce qui Spero che vi fidiate anche voi di questo sito Un saluto a tutti da iPhone Amatore Se avete problemi e vi scrivete con il video che sta in descrizione Se avete qualsiasi problema all'iscrizione del sito o qualsiasi altro problema Non c'è problema Voi potete contattarmi con un messaggio privato su YouTube appunto Sull'account YouTube Oppure andando sul gruppo Facebook Che si chiama Coin Generation Italia Di cui ringrazio veramente il proprietario di questa pagina Cioè colui che ha creato quella pagina Perché lo stimo Perché grazie a lui ho risolto dei problemi O sono riuscito io a risolvere dei problemi di altre persone Che non è una brutta cosa ragazzi È aiutare un po' gli altri Quindi se avete qualsiasi problema Ci sono sia io e sia questo gruppo su Facebook Chiamato Coin Generation Italia Ciao a tutti ragazzi Mettete mi piace Iscrivetevi e commentate se avete qualche problema Ciao